Io non sono inquieto se Salvini va a Mosca, il problema è di Salvini, non è problema se Salvini va a Mosca, il problema è se torna, nel senso che la questione vera di fondo è che è una roba che non ha alcun senso, l'abbiamo già visto in Polonia, Salvini non è il ministro competente, non è il capo del governo, di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici, detto questo trovo anche incredibile pompare questa vicenda, è un gioco delle parti, a Salvini fa comodo dire che lo fa e al PD fa comodo attaccare dicendo a lui va a Mosca, i problemi dell'Ucraina e della Russia non li risolvono né Salvini né il PD.